Mai più coda infinite per il tampone. L'Ustra e Serenissima ha presentato il piano di riorganizzazione e potenziamento dei punti tampone affiancando all'attività delle strutture pubbliche nuovi centri con il supporto dei privati all'insegna di un decentramento territoriale che tenga conto delle caratteristiche del territorio a partire da Venezia. Con l'autorità portuale abbiamo identificato un locale che attualmente purtroppo è in disuso perché era il luogo dove venivano fatti i check-in sulle grandi navi nella zona delle Zattere e lì essendo vuoto però le caratteristiche ci sono andremo a fare i tamponi. È vicino alla zona dove oggi li stiamo facendo cioè Giustinian e quindi ci sono delle linee di vaporetti che portano lì attorno. Il terminal della stazione marittima si candida ad essere sul fronte tamponi una sorta di corrispettivo del Pala Expo di Marghera in Laguna affiancato dal Fatebene Fratelli e dai punti dell'Ulsa Piazzale Roma in Piazza San Marco. Tre punti tamponi anche a Lido e uno a Pellestrina. Novità anche a Mestre con nove nuovi centri da Villa Salus al Policlinico San Marco per decongestionare Piazzale Giustinian. Oggi abbiamo messo a fianco a Giustinian una serie di altri luoghi, abbiamo decentrato la possibilità di fare il tampone sulla realtà di Mestre e questo vediamo nei prossimi giorni che risultato dà. Se dovesse succedere che i risultati non ci sono troveremo altre soluzioni sulle quali stiamo già lavorando. In tutti i nuovi punti tampone si accederà solo su prenotazione. Nei vecchi ci sarà ancora una settimana di assestamento in cui sarà possibile presentarsi senza prenotazione. L'ultimo bollettino dell'Ustra è serenissimo, intanto segna 2.000 positivi su 15.000 tamponi ma l'ospedalizzazione resta bassa grazie alla campagna vaccinale. Anche ieri abbiamo fatto oltre 7.000 vaccini, oltre 200 bambini. Noi stiamo viaggiando tra, per quanto riguarda la fascia più bassa, quindi 5-11 anni, stiamo viaggiando sull'ordine del 27% della popolazione vaccinata o prenotata.